un uomo aveva un figlio che era il più bel filvolo che si fosse mai visto successe che il padre si ammalò e un giorno chiamò il figlio sandrino sento di essere vicino a morire portati bene e tieni da conto quel poco che ti lascio morì ma il figlio invece di tener da conto la roba e lavorare in meno di un anno a forza di far balloria rimase sull'astrico allora si presentò al re della città per sentire se lo prendeva al suo servizio il re visto quanto era bello questo giovane lo prese per cameriere la regina quando lo vide le piacque subito tanto che lo volle lei per cameriere privato ma appena sandrino si accorse che la regina era innamorata di lui pensò sarà meglio che tagli la corda prima che il re se ne accorga e si licenziò il re voleva sapere perché se ne voleva andare ma lui disse che era per affari suoi e partì andò in un'altra città e si presentò al re che c'era lì per vedere se lo prendeva a servizio il re visto questo gran bel giovane disse subito di sì e sandrino entrò nel palazzo il re aveva una figlia che appena lo vide se ne prese una cotta da non capire più niente la faccenda diventò tanto seria che sandrino fu costretto a licenziarsi prima che succedessero dei guai il re che non sapeva nulla gli domandò il motivo di questa decisione e lui disse che era per affari suoi e il re non pote dire più nulla andò a stare da un principe ma si innamorò di lui sua moglie e andò via anche di là girò ancora cinque o sei padroni e sempre faceva innamorare qualche donna e gli toccava andarsene il povero giovane malediva la sua bellezza e arrivò a dire che per liberarsene avrebbe dato l'anima al diavolo aveva appena detto queste parole che gli si presentò un giovane gentiluomo cosa avete da lamentarvi gli chiese e sandrino gli raccontò senti gli disse il gentiluomo io ti do questo paio di brache vada di tenerle sempre addosso e non togliertele mai io verrò a riprenderle tra sette anni in punto in questo frattempo non ti devi mai lavare neanche la faccia non devi tagliarti mai la barba nei capelli nelle unghie l'altro puoi fare tutto quello che vuoi e star contento dette queste parole sparì e sentì suonare mezzanotte sandrino si infilò le brache e si buttò a dormire là nell'erba si svegliò a giorno fatto si stropicciò gli occhi e subito si ricordò delle brache di quel che gli aveva detto il diavolo salsa e si sente le brache pesanti si muove e sente un tintinnio di quattrini aveva le brache piene di monete d'oro e più ne tirava fuori più ne uscivano andò in città e prese alloggio in una locanda nella stanza più bella che avevano tutto il giorno non faceva altro che tirar fuori soldi dalle brache e ammucchiarli ogni servizio che gli facevano dava una moneta d'oro ogni povero che stendeva la mano una moneta d'oro così ne aveva sempre una processione sulla porta un giorno disse al cameriere sai mica se c'è un palazzo da vendere il cameriere gli disse che ce n'era uno proprio in faccia quello del re e nessuno lo comprava perché costava troppo caro fammelo avere disse sandrino e ti darò la tua parte il cameriere si diede d'attorno e gli fece comprare il palazzo sandrino cominciò a farlo ammobiliare tutto a nuovo poi fece foderare di ferro tutte le stanze a pian terreno e murale gli usci chiuso lì dentro passava le giornate a buttare fuori monete quando una stanza era piena passava un'altra e così riempì tutte le stanze da basso il tempo passava i capelli e la barba gli erano cresciuti da non farlo più riconoscere le unghie poi erano lunghe come pettini per cardar la lana tanto che ai piedi doveva portare sandali come quelli dei frati perché non gli stavano più le scarpe su tutta la pelle gli venne una crosta spessa un dito insomma non pareva più un uomo ma una bestia le brache per tenerle pulite le copriva di biacca o di farina bisogna sapere che al re di quella città era stata intimata la guerra da un altro re suo vicino e lui era disperato perché non aveva quattrini per sostenerla un giorno chiamò l'intendente che c'è di nuovo sacra corona siamo tra l'incudine e il martello disse il re non ho più un soldo per far la guerra sacra corona c'è quel signore qui vicino che ha tanti quattrini che non sa più dove metterli posso andare a chiedergli se si presta 50 milioni alla peggio ci risponderà di no l'intendente si presentò a sandrino da parte del re gli fece tanti complimenti e poi disse l'ambasciata dica pure a sacra corona che sono pronto a servirlo disse sandrino a patto che in cambio mi dia una delle sue figlie in moglie una qualsiasi delle tre che per me è lo stesso farò l'ambasciata disse l'intendente allora aspetto la risposta entro tre giorni disse sandrino se no mi tengo sciolto da ogni impegno quando il re sentì la cosa disse oh povero me quando le mie figlie vedranno quest'uomo che sembra una bestia chissà cosa diranno dovevi almeno dirgi che ti desse un ritratto tanto per preparare le ragazze vado a domandargli lo disse l'intendente sandrino quando seppe la richiesta del re chiamò un pittore si fece fare il ritratto e lo mandò al re quando il re vide quella bestia fece un passo indietro gridando possibile che una delle mie figlie voglia un muso come questo ma tanto per tentare fece chiamare la più grande e le spiegò la cosa la ragazza gli si rivolto contro a me fai queste proposte ma ti sembra che un uomo così si possa sposare e gli voltò la schiena senza più dir parola il re si buttò giù in una poltrona nera che teneva per le giornate sfortunate e resto lì più morto che vivo il giorno dopo si fece coraggio e fece chiamare la figliuola mezzana già pronto al peggio la ragazza venne lui le fece lo stesso discorso che alla prima e le fece capire che dalla sua risposta dipendeva la salvezza del regno ebbene signor padre disse la ragazza un po incuriosita mi faccia vedere questo ritratto il re le porse il ritratto lei lo prese ma appena gli ebbe dato un'occhiata lo buttò lontano come avesse preso in mano un serpente signor padre non l'avrei mai creduto capace di offrire in sposo a sua figlia una bestia ora so io il bene che mi vuole e così ansimando e lamentandosi andò via il re si disse andiamo pure in rovina basta che non debba più parlare di questo matrimonio con nessuna delle mie figlie se tanto mi hanno detto queste due figuriamoci cosa mi dirà la piccina che è la più bella si sprofondò nella poltrona nera e dette ordine che per quel giorno non aprissero a nessuno le figlie non lo videro venire a pranzo ma non domandarono nemmeno cosa avesse solo la piccina senza dir parola scese e andò a trovare il padre cominciò a fargli cento moine e a dirgli ma perché è così mortificato papino andiamo salsi da questa poltrona stia un po allegro se no mi metto a piangere anch'io e cominciò a pregarlo e supplicarlo di dire quel che aveva tanto che il re ne raccontò le cose come stavano ah sì disse la ragazza e mi mostri questo ritratto vediamo il re aperse un cassetto e le diede il ritratto la zosa così si chiamava la ragazza si mise a guardarlo da tutte le parti e cominciò a dire vede signor padre sotto questi capelli così lunghi arruffati vede che bella fronte la pelle è nera questo è vero ma se fosse lavata sarebbe tutt'altra cosa vede che belle mani se non ci fossero quelle unghiacce e i piedi anche quelli e così tutto il resto stia allegro signor padre me lo sposerò io il re prese la zosa tra le sue braccia e non finiva più di abbracciarla e baciarla poi chiamò l'intendente lo mandò a dire a quel signore che sua figlia la più piccina era disposta a sposarlo sandrino appena lo seppe disse sta bene siamo intesi dite pure a sacra corona che può disporre di 50 milioni anzi venite pure a prenderli subito e portatevi un sacchetto da riempire anche per voi perché voglio mostrare la mia gratitudine dite a sacra corona che non pensi a dar niente alla sposa perché voglio farle tutto io quando le sorelle seppero del fidanzamento di zosa cominciarono a prenderla in giro ma lei non ci badava e le lasciava cantare l'intendente andò a prendere i quattrini e sandrino gli riempì un gran sacco di quelle solite monete d'oro adesso bisognerà contarle disse l'intendente perché mi pare che ce ne sia di più della somma pattuita a niente rispose sandrino un po di più un po di meno io non ci vado poi mandò da tutti i gioiellieri della città a prendere quel che avevano di più bello orecchini catenine brazzaletti spill anelli con brillanti grossi come nocciole dispoge tutto su un vassoio d'argento e mandò quattro dei suoi camerieri a presentare i regali alla sposa il re gongolava la figlia passava ore a provarsi i gioielli le sorelle cominciarono a sentirsi mordere dall'invidia e dicevano sarebbe meglio fosse un po più bello a me basta che sia buono diceva la zosa intanto sandrino aveva fatto chiamare i più bravi sarti cuffieri calzolai cucitori di bianco e quelli dei nastri e quelli delle pezze ordinò tutto quel che ci voleva per il corredo e disse che entro quindici giorni doveva essere pronta ogni cosa si sa che quei quattrini si fa tutto e difatti di lì a quindici giorni tutto fu pronto camicie di tela tanto fina che ci si passava da una parte all'altra con un soffio ricamate fino ai ginocchi sottane con pezze di fiandra alta un braccio fazzoletti così piani di ricami che non c'era neanche il posto per soffiarsi il naso abiti di seta di tutti i colori di broccato d'oro e d'argento guarnito di gemme di velluto rosso turchino la sera prima delle nozze sandrino si fece riempire quattro tinozze di acqua calda e fredda quando le tinozze furono preparate sandrino saltò in quella piena d'acqua più calda e ci stette finché la scorza di sporcizia che aveva addosso gli si fu un po morbidita poi saltò nell'altra tinozza calda e cominciò a sfregarsi la pelle gli venivano giù certi trucioli che pareva un falegname erano sette anni che non si lavava quando si fu tolto la più grossa saltò nella tinozza piena d'acqua profumata appena tiepida e lì presa insaponarsi e la sua bella pelle d'una volta cominciava a farsi riconoscere poi saltò nell'altra tina piena d'acqua di colonia ed acqua di felsina e ci rimase un bel po' a darsi l'ultima sciacquata presto il barbiere venne il barbiere lo tosò come una pecora poi lo lavorò coi ferri per alicciare e con pomate e alla fine gli tagliò le unghie la mattina dopo quando scese di carrozza per andare a prendere la sposa le sorelle che stavano alla finestra per vedere venire quel mostro si videro davanti un bellissimo giovane chi sarà sarà uno mandato dallo sposo per non mostrarsi lui in persona anche la zosa pensò che fosse un amico e montò in carrozza arrivata al palazzo disse e lo sposo sandrino prese il suo ritratto di prima e le disse guarda bene quegli occhi guarda quella bocca non mi riconosci la zosa dalla gioia non capiva più niente ma come mai ti eri ridotto in quello stato non chiedermi altro disse lo sposo le sorelle a vedere che lo sposo era lui creparono d'invidia e al banchetto di nozze guardarono zosa e sandrino che pareva se li volessero mangiare con gli occhi e dicevano tra loro daremo l'anima al diavolo per non vederli così felici proprio quel giorno scadevano i sette anni che aveva detto il diavolo e a mezzanotte doveva venire a riprendere le brache a sandrino lo sposo alle undici salutò tutti gli invitati e disse che voleva restare in libertà sposa mia disse alla zosa quando furono soli tu va pure a letto che io verrò più tardi la zosa si disse chissà cos'ha per la testa ma aiutata dalle sue donzelle si spogliò e andò a letto sandrino aveva fatto un fagotto delle brache del diavolo e lo aspettava aveva mandato a dormire tutta la servitù era solo e si accorse tutto a un tratto che aveva la pelle d'oca e il cuore in gola suonò la mezzanotte tremò la casa sandrino vide il diavolo che veniva verso di lui gli porse il fagotto prendetevi le vostre brache ecco prendetevele disse dovrai prendermi la tua anima adesso disse il diavolo sandrino tremava ma siccome invece della tua anima me ne hai fatte trovare altre due proseguì il diavolo prenderò quelle e a te ti lascio in pace in domani mattina sandrino dormiva beato accanto alla sua sposa venne il re a dar loro il buongiorno e a chiedere alla zosa se sapeva nulla delle sue sorelle che non s'erano più viste andarono nella stanza delle sorelle e non trovarono nessuno ma sulla tavola c'era un biglietto siate maledetti per voi siamo dannate e ci porta via il diavolo allora sandrino capì chi erano le due anime che il diavolo aveva preso al posto suo